Buongiorno, Atlas. È ora di svegliarsi. Sono sveglia. Io credo in Atlas Shepard. Il suo lavoro di ricerca e analisi su Arlan è impeccabile senza eccezioni. Arlan è una minaccia imminente ed esistenziale. Va a prenderlo. Se davvero volete catturarlo, avete bisogno di me in missione. Mayday, siamo sotto attacco. Che devo fare? Allacci le cinture! Oh mio Dio! Il pianeta è instabile e inospetabile. Atlas, io mi chiamo Smith. È proprio necessario? Sei un programma in un computer. No, non lo sono. No? E allora cosa sei? Sono un programma in un computer di nome Smith. Non mi piacciono i saputelli, Smith. È solo questione di tempo. Ci sarà un esercito. Atlas, il protocollo primario è mantenere in vita il mio Ranger. Mi sta bene! Non mi serve il tuo aiuto. Non mi fido di nessuno, Aya. Smith! Atlas, non funzionerà se non ti fidi di me. Ok. Facciamolo. Cos'è che ci si sente ad essere te? Questo è come ci si sente ad essere noi. È bellissimo. Non temere. Non siano altro che la versione migliore di voi. Tutte le persone che Arlan ha ucciso saranno morte in vano. Sei nella mia testa e tutto ciò che riesci ad apprendere sono le parolacce? Sono un allievo adattivo. Ok. Provaci.